A tutti voi un buon pomeriggio, ben ritrovato in una nuova puntata di Linea Diretta, ospite dei nostri studi Roberto Campagnolo, vice sindaco di Bassano del Grappa, assessore ai lavori pubblici. Intanto benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Parliamo proprio di lavori pubblici, intanto l'attenzione parlando di questo argomento viene puntata a quella che è di strettissima attualità, ovvero il cantiere dove si sta costruendo il polo museale di Santa Chiara, sappiamo che ci sono stati ritardi che hanno rallentato i lavori dovuti a questo ritrovamento di alcuni reperti storici e poi c'è stato il crack, il fallimento dell'azienda che era stata incaricata a portare avanti i lavori di costruttura del polo museale. La situazione com'è? Cosa sta succedendo? Beh, è una situazione che intanto come amministrazione abbiamo cercato di comprendere da subito. È stato uno dei primi cantieri che sono andato a visitare, sono andato a visitare insieme con i funzionari dell'ufficio tecnico. Già allora, parlo ancora del mese di luglio di quest'anno, avevamo visto che la situazione proseguiva abbastanza a rilento. Abbiamo quindi convocato la direzione lavori, cercato di tenere sotto controllo e monitorata la situazione giorno per giorno, finché nell'ultimo periodo ci avevamo resi conto che di fatto nel cantiere lavoravano soltanto aziende in subappalto, insomma quindi non direttamente la ditta che aveva vinto la gara. Quindi abbiamo chiesto incontri con la proprietà, segnalato la cosa, finché un giorno abbiamo trovato il cancello chiuso e poi nel giro di quattro giorni è stata evidenziata l'istanza di fallimento presso il Tribunale di Treviso. Ma è arrivato un po' come un fulmine a Celsereno per voi? No, allora, fulmine a Celsereno, c'erano segnali in questo senso, però ovviamente sono quelle cose che finché non vengono formalizzate, speri sempre che non avvengano, non tanto perché non ci sia rischio di impresa, ma perché questo è un settore purtroppo, quello delle costruzioni, un settore in forte sofferenza e nel settore degli appalti pubblici in particolare abbiamo visto negli ultimi anni delle gare che hanno avuto ribassi importanti, spesso magari troppo importanti, la legge non consente di limitare molto questa azione, quindi ti trovi a dover assegnare lavori magari sotto a quelli che sono i costi reali che un'impresa deve sostenere poi per realizzarli, al di là degli imprevisti che capitano sempre. Ecco, e adesso che futuro per quel sito? Beh, il futuro intanto si continua su quello che è il progetto, nel senso che l'amministrazione comunale ha già speso in termini di risorse proprie circa un milione di euro di progettazione per primo e secondo stralcio, questa ricordo era la realizzazione del primo stralcio finanziata dalla Fondazione Cari Verona con un finanziamento di quasi 10 milioni di euro, quindi di fatto parliamo di lavori effettuati attorno al milione di euro, quindi resta tutta la parte importante di realizzazione sulla quale siamo impegnati a continuare, come? Tecnicamente la gara prevedeva il subentro del secondo in ordine di aggiudicazione, ci sono anche altre possibilità perché l'impresa che è fallita era in associazione temporanea di impresa con altre imprese e quindi l'altra impresa che non è fallita, che aveva una quota minoritaria, sta chiedendo eventualmente subentrare, se arriveranno notizie le valuteremo. Domani mattina abbiamo un incontro con il curatore fallimentare, incaricato dal tribunale. Si tratterebbe sempre di un'azienda locale? Sempre di un'azienda della zona, sì. E quindi i lavori, tempi permettendo, dovrebbero procedere, appunto parlando di tempi e di perdita, se c'è stata e se ci sarà di denaro. Allora, questo tipo di situazione comunque genera un allungamento dei tempi che noi cercheremo di contenere, perché? Cosa succede? In caso di subentro bisogna fare lo stato dei lavori fino al momento in cui la dita è fallita e poi riclassificare i lavori che restano da fare per la dita che subentra. Quindi questo presuppone un supplemento di progettazione di qualche settimana, un mese diciamo. Quindi questo è un tempo che sarà un allungamento. però si era comunque già andati a posticipare quella che era data di consegno di lavori che era prevista per la fine quest'anno, almeno per la fine 2015. Quindi io credo che potremo rimanere ancora con quello come obiettivo. Però una domanda sorge anche. Visto questi ritardi, visto questi intoppi che ci sono stati, avete mai pensato a una diversa destinazione d'uso del sito? Non le nascondo che ci abbiamo pensato, ma ci avevamo pensato anche prima che ci fosse questa situazione. L'amministrazione, come è logico, era un'amministrazione nuova che ha trovato questo progetto e quindi era anche corretto che poi si facessero ragionamenti di altra natura. Abbiamo ricevuto anche sollecitazioni da importanti opinion leaders, mondi associativi cittadini che ad esempio parlavano di quell'area come area potenzialmente destinata al nuovo teatro cittadino, se vogliamo, che è un'esigenza molto importante per la città. Ci sono però dei problemi oggettivi. Credo che questa cosa l'abbiamo a suo tempo valutata anche l'amministrazione Cimatti. Primo il fatto che sono già stati spesi un milione di euro di progettazione. Quindi il cambiamento di gestione dell'opera sottoporrebbe l'ente, in questo caso l'amministrazione comunale, al potenziale danno erariale, quindi indagine, a corte di conti con annessi e connessi. Quindi bisognerebbe giustificare il sopraggiunto interesse pubblico nel caso in cui si dovesse cambiare destinazione. E poi c'è tutto il tema del finanziamento della fondazione legato a questo tipo di opera. Credo sia difficile quindi cambiare proprio per questi motivi. E con lei parlava del teatro. Per diverso tempo, proprio a Bassano, era sorta questa esigenza forte di avere un teatro, dopo che tra l'altro era stato chiuso anche quello storico, l'Astra. È un'esigenza, credo, che rimane. Non dico che sia una delle priorità perché in questi primi due anni di priorità ne abbiamo inserite altre che ci siamo trovati. Il ponte in primis, il Tempo Eossadio, che voi conoscete bene come tema. Poi c'è questo cantiere che deve essere ultimato. Però il teatro rimane una priorità della città, insomma. Una città come Bassano, che ha una vivacità culturale a livelli internazionali e riconosciuti a livelli internazionali, ha bisogno di una struttura di primo livello. Tornando ad occuparci proprio del polo museale, una volta terminato, sarà, secondo lei, secondo l'idea che si è fatto. Un vantaggio per Bassano anche per un reperimento di denaro? Questo si inserisce, secondo me, ma è una mia valutazione e la sto approfondendo in queste settimane all'interno di un ragionamento complessivo. Bassano ha una potenzialità dal punto di vista culturale già esistente e importante. Secondo me è sottoutilizzata rispetto a quello che può restituire alla città in termini di beneficio economico, nel senso che poi anche le strutture culturali, tipo i musei, le mostre, le esposizioni, se gestite con un'ottica di un certo tipo, restituiscono alla città valore aggiunto in termini di visite, turisti, biglietti, insomma, cose che hanno un valore economico. È indubbio che quando si è pensato a questa struttura, si è partiti da delle esigenze, un museo di storia naturalistica legato a un lascito importante da parte di un bassanese, che però forse non teneva conto fino in fondo di quella che era la dinamica di costi gestione generali che sono già importanti. Stiamo facendo delle valutazioni anche su questo. Per quanto riguarda lei, adesso non la faccio parlare come assessore dei lavori pubblici, ce la faccio parlare come vice sindaco in questo caso. Si parlava prima della vivacità culturale di Bassano del Grappa, vivacità culturale che è stata attaccata anche dall'opposizione però di recente, in quanto diceva che non viene sfruttata abbastanza. Sono state accantonate diverse opportunità e Bassano diventa quasi di serie B per quanto riguarda le potenzialità legate alla cultura e legate anche al museo. Io credo che però l'approccio che l'opposizione ha con questi temi sia fondamentalmente sbagliato per un dato che è questo. Non è che evidenziando la negatività di una gestione e dicendo Bassano non c'è niente che funziona, la città non va, la cultura non funziona, il turismo non funziona, risolviamo il problema. Primo perché non facciamo un cattivo servizio alla città, perché evidenziamo un quadro negativo che in realtà io non percepisco in maniera così importante, ma io la dico da Bassanese adottato, vivo a Bassano dal 99, prima vivevo a Cittarella e io credo che Bassano abbia ad oggi potenzialità e un livello di rappresentanza enorme verso l'esterno. Quindi tutto il mondo culturale e turistico è qualcosa di molto importante e significativo. D'altra parte i giudizi, le indagini esterne e indipendenti dimostrano che è così. Quindi la percezione della città da parte dell'esterno è diversa da quella delle minoranze che ci vivono e questo andrebbe evidenziato. Questo non vuol dire però che la giusta critica rispetto al miglioramento su una serie di cose come le gestioni del patrimonio pubblico o delle realtà museali come in questo caso non possa essere fatta, anzi su questo siamo impegnati, questa amministrazione è impegnata, c'è un modello che noi abbiamo ereditato che ha molti elementi di valore, molti punti deboli sui quali bisogna lavorare. Una strategia di marketing complessivo ad esempio è un elemento su cui ci si deve interrogare e bisogna in qualche maniera attivare dei processi virtuosi verso questa strada. Sì, soprattutto considerando che in tempi difficili che stanno attraversando tutti i territori, compreso il nostro, il turismo può diventare davvero un veicolo importante per un rilancio economico. Guardi, qui c'è la valutazione del cittadino, della persona che vive da cittadino e vede le cose e cerca di informarsi e di capire. La mia è questa. Io credo che Bassano, che ha una realtà industriale importante, ha un manufatturiero di alto livello che è rimasto e altro che di più basso livello che abbiamo perso, purtroppo che va preservato, mantenuto e sostenuto e su questo non ci sono dubbi. Però pensare che le nostre realtà, realtà come quelli del Bassanese, possano prescindere dalle potenzialità turistico-culturali, quindi dal vivere e creare economie attorno a queste dinamiche, vuol dire non capire le potenzialità che noi abbiamo. Questa è la strada, non c'è alternativa a questo. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un contesto stupendo, la realtà della pedemontana, la zona collinare che circonda il nostro centro storico bellissimo, va promossa a livello sinergico, quindi a livello di sistema. Uno viene a Bassano non per stare solo a vedere il centro storico al Ponte Vecchio, ma perché vive una serie di opzioni a livello di area che poi si interfacciano con altre realtà di centri cittadini, vedi Marostica, Asolo, che sono qui vicini per citarne Cittarella, Sud, insomma. Quindi tutto questo va proposto come sistema. Questa è la sfida, io credo che questa deve essere un faro che orienta le amministrazioni locali, tra cui anche la nostra. E' uno dei simboli di Bassano, il Ponte Vecchio, il Ponte degli Alpini, il Grande Malato. La situazione oggi? A me sembra molto interessante, non dico buona, perché il ponte deve essere restaurato, ci sono problemi oggettivi, c'è chi li ha visti prima e evidenziati prima, c'è chi li sta vedendo adesso, comunque oggettivamente i problemi ci sono. Noi abbiamo cambiato approccio però rispetto al monumento simbolo della città e l'approccio in sintesi è questo. Potevamo intervenire o cercare di intervenire, al di là dei tempi tecnici, delle autorizzazioni, in maniera molto veloce e sbrigativa, fare degli interventi mirati di consolidamento delle problemi principali e poi vedere quello che succedeva. Magari tra cinque anni si interveniva ancora, tra altri cinque si interveniva ancora. Abbiamo deciso di cambiare approccio. La convenzione con l'Università di Padova e in particolare con il professor Modena ha questo tipo di fine obiettivo, che è quello di dire ok, creiamo un momento che sia un anno zero per il ponte, dove acquisiamo tale e tanta documentazione di tipo scientifico che ci consentirà a noi di fare un restauro serio, ma anche a chi verrà dopo di noi tra cinque e dieci anni di avere una base documentale che gli consentirà di vedere e di intervenire ogni volta che c'è un problema senza capire cosa facciamo oggi. Si è spostato qualcosa perché si è spostato. L'approccio deve essere questo e c'è un altro vantaggio. La convenzione con l'Università che costa ai cittadini di Bassano relativamente poco, perché costa 39 mila euro, finanzia tre borse di studio a livello internazionale e consente al ponte di diventare oggetto di studio in cinque università europee. Anche questo io credo che sia un cambio di approccio sostanziale. Il ponte non è il simbolo della nostra città, ma è un patrimonio in termini di simbolo e dal punto di vista architettonico dell'Italia e dell'Europa. Su questo noi stiamo lavorando. E come ci sarà questo approccio? Come verrà sviluppato questo progetto? Ma questo è già, il ponte è attraverso la convenzione con l'Università che è stata siglata, è entrato all'interno di un progetto Erasmus, Erasmus Mundus, che è un progetto di restauro internazionale con quattro università europee e più quella di Padova, quindi cinque università, Praga, Atene, Lisbona e Barcellona. Con queste università si lavorerà, quindi il ponte sarà studiato all'interno di percorsi di studio, di restauro anche in queste università, quindi ci saranno studenti e docenti universitari da tutta Europa che parleranno del ponte. Quindi già questo è in sé una valorizzazione importantissima. Poi c'è stata, non ultima, la convenzione con Federlegno, quindi anche qui abbiamo voluto, a onore del vero, qui c'è stato un lavoro importante da parte della Regione, del Presidente del Consiglio regionale Ruffato e del Presidente Zaglia, che va sottolineato, anche se sono avversari politici, va detto e va riconosciuto, che hanno spinto verso questa strada. Teniamo conto che qui noi viviamo all'interno di un distretto, che è un distretto del mobile, della lavorazione del legno, quindi credo che anche questo abbia un valore importante nell'economia locale. Ecco, da quello che è riuscito a capire lei, tra l'altro ricordiamo, appena è eletto, è stato uno dei primissimi che con la canoa è andato proprio a verificare, a toccare con mano in che situazione versava e versa il ponte vecchio. Secondo lei, cosa c'è da fare subito? O perlomeno c'è il rischio per chi transita sul ponte? C'è un rischio per questa struttura? Allora, io ho parlato spesso, lo vedrò anche insieme con il gruppo di lavoro, venerdì mattina, con il professor Modena. Allora, il ponte è un monumento in legno, il legno è un materiale delicato, ma è, ce lo ricordavamo i nostri nonni, è un materiale che ha in sé molta virtù, non è come un ponte in cemento che mi hanno spiegato, perché non sono un tecnico, ha un punto di cedimento immediato, cioè un ponte in cemento, tu lo sovraccarichi, lo sovraccarichi, poi collassa senza nessun preavviso. Un ponte in legno non collassa mai senza preavviso e soprattutto per come è costruito il ponte di Bassano, il palladio era uno che capiva qualcosa di architettura e di ponti anche, è difficile che questo collassi in un punto da tirarselo giù tutto, quindi se dovessero esserci problemi ci sarebbero dei segni di cedimento che consentirebbero di mettere in sicurezza il manufatto, di chiuderlo. Al momento attuale questo rischio non c'è. Ecco, si era parlato di questo appesantimento della struttura quando c'è stato uno degli ultimi restauri con questa colata di cemento, chiamiamola così, che avrebbe appesantito e non di poco. Adesso vedremo i dati delle indagini che ci sono già stati consegnati, andremo ad analizzarli meglio. Le prime valutazioni fatte con chi ha fatto le indagini e con il professor Modena evidenziano che questo probabilmente è un elemento di criticità, cioè il peso costante, questa massicciata che dal 1990 è stata creata sopra il ponte, quindi ha appesantito la struttura permanentemente, è sicuramente un elemento che ha destabilizzato la struttura. Questo ormai è dato come certo. E secondo lei tutte le verifiche che sono state effettuate negli anni proprio recenti, anche mi pare che l'ultima l'anno scorso, con queste verifiche via laser che sono state realizzate sul ponte, questi monitoraggi, anche per una spesa importante anche. Potevano essere evitate, si poteva, che so io, come voi avete affidato e si è creata questa sinergia con l'Università di Padova, a costi anche decisamente più ridotti per l'amministrazione e quindi per i cittadini. Si sarebbe potuto risparmiare secondo lei? Non lo so, che il ponte avesse problemi era evidente, all'occhio nudo c'era bisogno di un'evidenza scientifica, quindi le misurazioni attivate da chi mi ha preceduto avevano questo obiettivo. A onore del vero io devo dire che il costo basso che noi siamo riusciti ad avere con l'Università di Padova a livello di convenzione è giustificato anche da questo, nel senso che noi abbiamo consegnato anche questi rilievi che sono stati pagati, però noi li abbiamo consegnati, quindi se non c'erano magari quota parte di questi forse si dovevano effettuare, mentre c'erano già e quindi erano già stati pagati, quindi sono stati valorizzati anche all'interno della convenzione. Tra l'altro era venuta fuori anche la questione legata al Ponte Nuovo, il Ponte della Vittoria, so che sono iniziati dei monitoraggi. Sì, sono stati evidenziati, ma questo è qualcosa che c'è ormai da qualche mese, delle fessurazioni, dei problemi di qualche cedimento non particolarmente importante anche sul Ponte Nuovo, con l'occasione abbiamo deciso di affidare alla stessa ditta che ha fatto i monitoraggi sul Ponte Vecchio, sia perché hanno le competenze specifiche, ma soprattutto per la modalità, cioè questa modalità di calarsi con le corde, con le funi eccetera, che non è così diffusa, consente però un grosso risparmio a livello economico sulla rilevazione sull'indagine, perché un'indagine fatta in modo tradizionale presuppone l'utilizzo di impalcature o di strutture fisse in sicurezza sul Ponte, che hanno costi di allistimento che troppo spesso, molto spesso, sono più alti di questi costi di analisi. E quindi la situazione al momento... L'analisi è in corso, proprio in questa settimana. Non c'è pericolo neanche lì, evidentemente se noi evidenziamo o avessimo situazioni di pericolo saremmo costretti per salvare i cittadini a chiudere il passaggio su queste strutture, però oggi non è così. Una decina di giorni fa è stato presentato il piano triennale di interventi legati proprio al suo assessorato, quello dei lavori pubblici, un costo importante, si parla di una trentina di milioni di euro di lavori. Sì, una media di 10 milioni di euro all'anno di opere pubbliche, che è un po' in linea con quello che aveva fatto l'amministrazione Cimatti, solo che il contesto nel quale noi ci troviamo a operare, purtroppo è profondamente cambiato, nel senso che quelle che sono le fonti di finanziamento tradizionali delle opere pubbliche, in primis gli oneri di urbanizzazione, sono drasticamente calati. Mediamente, negli anni scorsi, si arrivava a media anche di 4-5 milioni di euro all'anno di oneri di urbanizzazione, che poi servivano per finanziare opere pubbliche, quindi metà della previsione veniva finanziata da oneri di urbanizzazione. Noi facciamo una previsione attorno ai 2 milioni, quindi molto meno della metà di quelli degli anni precedenti su oneri di urbanizzazione, però mi sentirei di dire che è una previsione ottimistica. Il resto va su rinegoziazione mutui, che comunque è limitata, intorno al milione di euro, e poi c'è la parte, cosiddetta del fundraising, uso termine inglese, ma del recupero fondi, della capacità che per fortuna l'amministrazione comunale di Bassano ha sempre dimostrato di avere, di recuperare fondi da finanziamenti europei e finanziamenti regionali. In questo, io direi, parliamo troppo spesso e sempre spesso per luoghi comuni male della struttura pubblica. Qui mi sentirei di spezzare una lancia a favore della nostra struttura pubblica, che in particolar modo è quella di Bassano, di alcune aree di quella di Bassano, che ha questa capacità, con una struttura dedicata proprio a questo, di recuperare questi finanziamenti. Insomma, questo va evidenziato. Quali priorità per, appunto, questo piano nuovo triennale? Beh, allora, quello che abbiamo detto adesso, sicuramente il ponte, il ponte degli Alpini, è la priorità numero uno, il Tempio Ossario, nel senso che in occasione del centenario della Grande Guerra è una priorità da parte dell'amministrazione comunale, evidenziando che questo non è un immobile, è un manufatto dell'amministrazione, anche se è patrimonio della città, ma perché è della Curia, appartiene alla Curia. E quindi, ecco, la interrompo, in questo caso, voi come potete muovervi? Ma noi siamo... Se potete muovervi? O come ci siamo ossi l'altra volta, nel senso come stazione appaltante per fare i lavori, nel senso che il Tempio Ossario è stato già oggetto di un restauro importante, però non è stato sufficiente, anzi, oppure dando tutto il supporto che serve a chi farà la stazione appaltante, potrebbe essere la Curia stessa, che decide di intervenire sul monumento, o altri enti, come la Regione o addirittura il Governo nazionale. Poi, per continuare nel ragionamento di quali sono le priorità, noi abbiamo cercato, abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo. Il Comune di Bassano, quindi i citrini di Bassano, hanno la titolarità su moltissime opere pubbliche costruite negli anni Ottante, in particolare. Strutture dei quartieri, strutture sportive, palazzi di valore storico. Molte opere sono state costruite in quegli anni, altre sono state ristrutturate sempre in quegli anni o dopo, altre sono da ristrutturare. Quindi abbiamo deciso di non prevedere opere nuove che qualifichino, forse non ce n'è bisogno neanche, tranne il teatro, come abbiamo detto prima, non mi pare che ci siano altre grosse esigenze. Però di intervenire sulla manutenzione, la messa in sicurezza e consolidamento di queste opere esistenti, partendo dalle scuole, in particolare. Noi abbiamo molti plessi scolastici che hanno bisogno di interventi importanti per la messa in sicurezza. Quindi una media di 4-5 milioni di euro all'anno saranno destinati, se reperiti, per mettere in sicurezza gli istituti scolastici. Se reperiti? Se reperiti perché oggi... C'è sempre questo grande punto di domanda. Amministrare un comune oggi vuol dire fare i conti con l'incertezza delle fonti di finanziamento. Non è un... Bassano ha, essendo un comune importante, secondo la provincia di Vicenza, uno dei più importanti del Veneto, ha le spalle abbastanza grosse, ma non sufficientemente grosse per farcela da solo. Quindi il riprendimento dei fondi è un tema all'ordine del giorno. Eh sì, importante. Ecco, adesso parlavo appunto di Bassano, seconda città dopo Vicenza. Come vede, proprio una cosa... Le faccio rispondere come amministratore. Come vede questa nuova compagine che si è formata, questo nuovo consiglio provinciale di questa nuova provincia, che vede tra l'altro Bassano, beh, il Bassanese meglio, in pole position? Sì. Beh, è stata fatta una scelta, partendo da quello che è il dettato legislativo nazionale che di fatto supera le province. Già oggi sono state ridimensionate molto in termini di competenze e esalta le città metropolitane, si è scelto di investire con il ruolo di presidente il sindaco della città più importante, che è la città capoluogo, quindi Vicenza, che è Achille Variati. Tanto figura sicuramente di alto profilo dal punto di vista politico e di credibilità amministrativa. Il Bassanese ha avuto l'opportunità di esprimere due consiglieri provinciali che dovevano essere o amministratori comunali in carica o amministratori provinciali uscenti, quindi Mauro Beraldin che è di Bassano e la Chiara Lovisetto che è la sindaca di Nove. Tra l'altro per quanto ci riguarda sono entrambi di area politica a fine alla mia, cioè la stessa, quindi io sono particolarmente felice. Poi sono entrate altre figure importanti che non sono politicamente di area centrosinistra, però sicuramente figure di spessore, come la sindaca di Rossano Veneto, Martini, che tra l'altro è diventata anche vicepresidente della provincia, quindi io credo che la zona abbia figure che la rappresentino e quindi sia in grado poi di giocare la propria partita. Giocare una partita e magari che possano fungere proprio da intermediari tra il territorio e regione, ad esempio, o territorio e Stato? Sì, ci sono una serie di temi strategici dove la provincia ha ancora delle competenze, non so fino a quando saranno lasciate, però ci sono in particolare i trasporti e gli edifici pubblici, quindi scuole. Quindi da questo punto di vista diventa un interlocutore con il quale bisogna ragionare, cioè pensiamo che tutta la parte trasporti viene gestita con FTV, che gestisce anche per noi il trasporto urbano, però quota parte di questi trasporti, dei trasporti pubblici, quella più importante, è gestita a livello provinciale. Certo, certo, quindi poi è tutto da vedere, insomma una macchina che poi è tutto da vedere come riesce ad andare avanti. Io ho fatto una serie di riunioni, perché come assessore ho anche la competenza della mobilità, quindi mi sono trovato a gestire queste cose e fino all'altro ieri i miei interlocutori erano funzionari. Da oggi avrò delle persone con le quali posso condividere un disegno politico strategico, non necessariamente politicamente affini, però con le quali si può discutere sul fatto che il trasporto pubblico sia un valore oppure no, ad esempio. In questi casi si metterà a parte il colore e si pensa al bene di un territorio. È quello che dovrebbe essere fatto normalmente tra l'altro. Tranne qualche eccezione, ma le eccezioni confermano la regola, quindi va bene che ci siano. Vedo che nel Bassanese questo è abbastanza applicato, cioè alla fine poi al di là delle differenze di colore politico si tende a privilegiare l'interesse dell'area, della zona, del comune, quindi io credo che questo sia molto bello per i cittadini, nel senso che poi con le difficoltà oggettive che ci sono tutti sui grossi temi remiamo dalla stessa parte. Noi siamo quasi giunti al termine della puntata. Le chiedo proprio a conclusione, che idea vorrebbe vedere realizzata subito a Bassano? Di quello che c'è sicuramente mettere in sicurezza il ponte degli Alpini vedendo già tutto sistemato domani mattina. So che non sarà così, ma sarebbe qualcosa di interessante. E poi per tornare all'inizio di questa interessante conversazione, credo per Bassano poter dire che questa amministrazione riesce a qualificarsi con un'opera nuova che però serve alla città e secondo me il teatro sarebbe qualcosa che ha un valore. È una speranza che spesso, anzi sono sicura, sarà condivisa da molti moltissimi nostri telespettatori, perché la necessità del teatro l'abbiamo vista davvero in tante occasioni. Penso sia evidente e così sarebbe una bellissima cosa per la città. Bene, ringrazio l'assessore ai lavori pubblici di Bassano del Grappano che è vice sindaco Roberto Campagnano per essere stato con noi e grazie a voi e agli spettatori per averci seguito ancora una volta. Una buona giornata! Grazie!